Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dino Viola, qui è Gioia con Alessio con l'Impero Azteco Come vedete è tornata la Norvegia Norwegian North Atlantic Island Perché la Norvegia in realtà sta qui? Se volessi la potrei anche annettere Cosa abbiamo fatto qui? Guardate qua, intanto posso pagare un prezzo, sto facendo mille al mese Abbiamo buttato fuori dalla guerra l'alleato dell'Inghilterra, la Scandinavia Abbiamo buttato fuori l'alleato dell'Inghilterra, Venezia La personal union portoghese l'abbiamo full annexata Cioè in realtà solo occupata scusate, non annexata E mo' dobbiamo capire cosa fare all'Inghilterra Proprio questa puntata si apre che abbiamo già vinto in realtà Quindi 90 giorni, 3 mesi per far tornare il diplomate Solo 3 mesi, eh, solo 3 mesi Senti ma Lichino Schnooker sta qua? Guarda te prendi Londra, te prendi 3 meraviglie Quindi mi stai a dire che devo prendere per forza Londra Ok E che succede qua? La Britannia, la Spagna, Ragona Allora guarda, fammo così Sta Britannia che già ho visto che sta da fastidio Mo' gli mando un mega, un mega improve relation Regalo, take for in depth Gli faccio da tutto, cacca Gli faccio un casino Perché questi in devono entra in coalizione La Britannia è proprio il paese tipico Che rompe il cazzo nelle coalizioni Da solo non conta niente Però siccome ce ne stanno altri 3 che te odiano Allora ti fanno alla coalizione Ehm, ok Non mi ho spiega come funziona la flotta inglese Ma la rubo tuta, cacca C'è un tipo il 99% di rubarmi le navi Vediamo qua Ma stanno a vincere loro E dove sta nanna? Sta nanna qua Qua c'è un'isola inglese che non ho preso ragazzi Ma quando me lo dite? Questo in Alster sta a morire Non può stare in Alster Ok La Spagna è finita proprio Vabbè, non per mano mia in realtà Cioè nel senso io ho ferrato un bel po' di provincia Però poi ha spondato a finale Gli hanno fatto a raguna e quell'altra Che è? Non mi rompe i marroni Ok Vabbè, prendo un punto mercantilismo Dai, che me frega Ok Vediamo se riusciamo a ammazzare Stei 100 navi nemiche Ecco qui Vediamo che gli combiniamo No Stanno andando all'isola di Mann Stanno tutte rotte Quindi forse è il caso Dei riposarne Ok Senti, volevo già prepararmi Gli regali Allora, dove stanno i miei regali? Più 20 Ok Beh, guarda Questo può atterrare qui Poi io faccio un tic Dei riparazioni Ma in realtà Poi puoi andare solo su Su queste qua Ok Solo sui trasporti Mentre l'altra riserva Ok Oh, un'altra provincia De Col Non crede Tra 60 giorni Finiscono le prime fornaci Ok Mo Gift Eh, però aspetta Prima del gift Gli faccio Take for in depth Eccolo Eccolo Emo un po' è andata a nessuna parte Sì Oppure no Ok Qualcuno Eh, niente Niente Perché finché ci hanno isolette Qualcosa Così Non feri nulla Gli volevo fregare 120 navi Se possibile È proprio troppo difficile Ok Mo gli mando pure Gift A Britannia E poi ci siamo Tanti soldi ce l'ho Insomma Quindi gli posso mandare Quello che mi pare Questi Stiamo un positivo Ma ci potrei pure alleare 625 regalati Dici Ma com'è che l'imperatore aztego Così all'improvviso Ci ha preso Ci ha preso come amici Ridamblè Ok, senti C'è la Machu Picchu Mi dà un altro sconto alle idee E mi sparo pure tutte le Tutta la manpower E ora appena si può Faccio pure il terzo livello Perché devo fare le idee Dell'espionage Anzi Prima di finire sta cosa Devo proprio fare l'idea Dell'espionage Dei 20% De coso No, niente Allora rimango così ragazzi Rimango così Prendo un po' De workshowsion E allora Fammi controllare chi è Fammi vedere chi è Che è Rosigawa Allora qui prendo un po' De isolette sparse Provincia che mi servono Per Portogallo London Isolette sparse Cioè ci starebbero C'è sta Questa Aragona Aragona Eh Aragona è un altro Perché se ci mando il coso Non faccio una liga di danno Tiè Eh devo aspettare Che faccio La tech Quindi Ragazzi Do sta Maciupiccio No No Ok Ok 15% Di sconto Alle idee Ricordiamoci Abbiamo già 10% Di sconto Alle idee Con gli aztechi Quindi 285 La pago Questa idea Ok E qui voglio Fa 20% In meno Di aggressive Expansion Eh cioè Ragazzi Ragazzi Non rompete i maroni Con ste coalizioni Così magari Posso prendere Poi qualcosa De più 50 punti Amministrativi Vanno bene London e Lisbona Ricordiamoci Che me li devo tenere io Eh Tiè Melodia Senti Ma io se volessi Potrei fare Grant Grant Provinz Eh sì 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 Quindi in realtà Poi dopo che diventano Una colonia Sunset Posso continuare Aggiungere Provincia Ok quindi Proprio In realtà In passarlo Mascherato Ok quindi Ecco qui Abbiamo fatto 20% Di aggressive Expansion In meno Come vedete Manco se ribella Nessuno Qua Quindi potrei Pensare Deve rendere Qualc'altra Cagatina Se tipo Volessi Alster E Togliamo questa Se riesco a prendere Poi l'altra parte Dove Stretto Si strilla Ayrshire Vabbè ma C'ho London C'ho London Ok Spagna Credo che sto in tregua Aragona O tiro fuori Gran Bretagna Sta in tregua La Francia E insomma Qui c'avrei Tre cristiani Due Se la Spagna Sta ancora in tregua Quindi poi Devo mandare Poi Il diplomatico In Scandinavia Tiè Sessanta The Power Projection All'Australia Ungheria Allora senti Prima di prendere L'aggressive Expansion E tutte queste cose Facciamo Grand Province Algarve Grand Province Begia Grand Province Evora Grand Province Non posso Perché se no Basso va esteso Ok Intanto Iberian Windmills Distruggo L'Escorial Do un punto Dei punti militari A Montezuma 38.000 Tutte le province Dei nostri Non Sovereign Subject 20 di autonomia 10 di separatismo E meno Che Mamma mia Che roba Convertite all'Islam No Non mi serve Convertite all'Islam Non mi serve proprio Ok Quindi Eh Qui abbiamo Risoltone Qui abbiamo Risoltone Quindi abbiamo Anche la torre Di Belem Che mi darà Un'altra Global Global Trade Questo è London Ma lo devo Tenere Ragazzi Pure London Posso Usarla Inglice È una cultura Accettata Ragazzi Inglice È una cultura Accettata Ma che ci penso Perché A fronte Conquista Colonia Ho accettato La cultura Inglese Ti È Ma che faccio Una nuova Sunset Colony Qui Ma dovrebbe Arrivare Un altro Mercante Qui Non c'entrano Due stock Io In realtà C'entrano Se ci metto Se ci metto Il coso Ok Questi Cominciamo A farli Torna A casa O a proposito Tutti Tranne Ribateio Ok Facciamo I go Ok Quindi Questo Viene 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 Ed è qua Qui ragazzi Si strilla Qui abbiamo fatto Il botto Qui abbiamo fatto Veramente Il botto Ah ma Questo ancora Sta finito Da questa roba Qua Scusa Ma Ste 3-4 Grazzate Sono così Pesanti Va bene Siamo sicuri Granata Ah Raga 18% Sovra estensione Solo quella Quindi Qui Dove Sunset Invasion Dice Ancora Zero Perché In realtà Non avevo manco Fatto Il corso Su Madrid Però In realtà C'ho Lisbona Madrid E London Amsterdam Parigi Roma Amsterdam Parigi Roma Amsterdam No No È Dell'Ansia Ungheria No No Che cazzo Mi dico Contra un milione Dei cristiani No Ragazzi Ragazzi Vabbè dai Cento anni De guerra Cento anni De guerra È il diciottesimo secolo Provinci Più 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 i miei Vassalli E ho finalmente Finito Tutte le Carthouse Quindi con questo Io non dovrei mai più Aver problemi Dei governi incapaci Ma proprio mai più Ragazzi Perché tra Tra cosa Tra le province Tra i mix Che abbiamo La casa bianca E tutte queste altre cose Se mo veramente Non mi devi più Comprie i maroni E posso far dieci Carthouse al mese Poi C'è pure da dire questo Grazie a novecento Al mese Mamma mia Ragazzi No Stano Dizia Non ce voleva Comunque L'Australia Ungheria C'era Tutta sta roba Comunque Io sto a muovere Tutta la flotta Senza alcun motivo Cioè In realtà Io qua A me Basterebbe Ovviamente Hanno capito subito Ah no Vabbè Aspetta Che l'ho detto io Non Non facciamo i cattivoni Ok Qui Non perdo truppe Ma Senza che voi Gli fate far più strada Ma perché Non vi mettete Proprio qua in fondo Ok Ok Mo faccio Muove solo I navi I navi Queste qua Ok Tiè Ma tipo Due a botta Se può fa O è proibito Ok Vediamo Che casino Ragazzi Questo è L'Amsterdam E dell'Australia Ungheria Voi ci avreste mai pensato Che il problema Era Amsterdam In tutta sta storia Cioè Roma Vabbè Dai Roma Aspetta Ma per due Per due cose De merda Per due Isole De merda 112 De sovra estensione Cioè Ho visto Mo car qua Piace questo Senti Che domo fa Oh Arriba Per due sole Marce De cento De sovra estensione Ma che domo fa Oh Dovrebbe essere questa Che c'è una striscia Di gore Fino al punto Che mi serve a me Ok Quindi Senti Mo qua Ma quanto fanno schifo Se lo vince No non fanno schifo Ok Vai Va No Qui non c'è il generale Quindi che te vai 100% Di Di professionalismo Mo la velocità del ballo È altissima Ok Qui manco uno Col generale Balla E balla Tiè Tutto l'esercito a balla Qua non me ne so scordato nessuno Ok Ma chi se sta ribellà Cablilla Chi è Cablilla Vabbè Tiè salite qua Mo l'improvviso Mi converso all'Islam E divento Il califato Così come conclusione No vabbè scherzo E per diventare califato Devi Devi ammazzare sta gente qui eh Oh ma l'impero ottomano Si è spostato Vedi Ha spostato il bacino Da un'altra parte Senti ma la Russia È ribellosa 0% 0 Zero Ragazzi Con più truppe Dell'Australia Ungheria Ah vabbè però questo è l'imperatore L'Immortacci Arriba L'Australia Ungheria Oh Incredibile Non me l'aspettavo Carco Ma questo Undo sta Vabbè Rubio Ando qua Ah stavate là Stavate qua Stavate qua Stavamo tutti a ballare Magino Ok Balla Ok Qui c'è questa Sì c'è questa Perché c'è il teschio Non si capisce Vai Qui 2850 Andiamo da là O comunque Lo rubate Le navie Non è che non lo rubate Tortuga Fermalo Tortuga Devo dire È una meraviglia Della madonna Se ti vorrei Finire un attimo Queste Così ce penso Mai più Guarda Guarda ragazzi Cioè guarda qua Guarda qui Quanto manca 47 giorni E finisce una stecca Assurda Mo' tra due mesi Voglio vedere Adesso noi stiamo A 703 Voglio vedere Da due mesi Chi è? Chi è? Wichita Vai Eccolo Devo aspettare Un mese Così si refrescia 500 Altri 253 Vabbè dai Non è così Così esagerato Ok Ho finito le cart house Ho finito le cart house Bogotà convertì Ok Sì Ma quanta roba devo convertì ancora? Oh 60% Sta massa lì Ok Quindi Un po' meglio lo è Alhambra In Granata Ho fatto Una Una Gendona Togli e terra Non c'ha senso Ok Oh Questo 2008 e 50 Un'altra stecca Di town hall Però c'è sta Contro Hoyat Ancora c'è Hoyat Ok Senti Che altro c'ho da fare Fammi vedere Altri 24 Qua Stonehenge Distrutto Ok Quindi Devo avere Stonehenge A zero Ok Tolerance Retrofate Cost Dell'advisor Della stessa religione Mazzà Qua c'è Della cultura Adore De London Prestigio Army Tradition È tutto Buono Se butta niente Ragazzi Liban Vale Knowledge Sharing Non si butta niente Ragazzi Allora Comunque Aragona Gli mandiamo E regalo Non c'ho I soldi Mazzà Costa così tanto Influenza Aragona Eh Mo Mo Che faccio i soldi Influenza Dai Max Amicizia Con la Britannia Alhambra No Qui Tutto in avanti Se arrivo a 40 Faccio pure una missione Con l'Innovativeness C'ho una missione Di avere 40 Di Innovativeness Una delle più difficili Giustamente Con l'Aztechi Quanto manca Qui d'amicizia 60 Con Aragona Ah poi Ce ne voleva uno In Scandinavia Meno 150 E vabbè Io pure conquista Delle provincie Che pretendi Però insomma Mo Gli mandiamo Regali Influenza Insomma Magari Qualcosa Inventamo Alfred de Borgogna E' quello che comanda In In Scandinavia Vorrei evitare Le coalizioni Ragazzi Sì ma io Che gli dico A questi C'è C'hanno un milione Di cristiani C'hanno un milione Di cristiani Questi C'hanno del tutto Impossibile Cioè magari Con le navi Il casino Io lo faccio Ma una volta Che mi portano Le truppe Vabbè Le navi Senza problemi Navi senza problemi C'è un milione De cristiani Mazzano Due delle cose Vabbè Insomma Amsterdam è l'ultima Poi prendiamo Prendiamo prima Tutto Ragazzi Ma che A Genova Che è fino a qua Ah non è sempre No Che è Genova A Rio de Janeiro Due delle cose Vabbè Oh fammi cominciare L'alambra Se no sta notifica Non se ne va più Ok Posso fare l'egemonia Un giorno La faremo Ignore Going Distance In realtà Non mi serve una sera Insane Continent Danno dell'artiglieria Da linea dietro Ok Mi ha aumentato L'assolutismo Io vorrei Che questi stessi Tutti Ha ballato Massimo Ok Raguna Quanti soldi Vuole? Mamma mia Ok Più uno Vuole i soldi L'Australia Ungheria Vuole i soldi Io gli do Dai Tanto quando Tormo litigare Tra sai Non è che tipo Gli posso Comprarlo Non è possibile C'è qua Charter Company Charter Charter Company Non ci credo Che funzioni Ma se funziona Si accende Meno danse Meno mille Too powerful Se non ce la facevo Stesso Eh vabbè ragazzi Alla fine Non lo sapevo Che non si poteva Fà Dai su Ok Qui che vuoi Wenro Ok Senti Cosi Qua I I centri Commerciali Uno Falliello Due E questo Sarebbe da Falliello Prima Mercante Qui ce l'ho Mercante Pia Ok Tutti i mercati Sono almeno a livello Sono almeno a livello Due Niente Se tu pa London E quest'altro Va bene Ti è Fiamo pure London E fammo pure quest'altro 800 Quindi ho fatti tutti praticamente Mestriati Abbiamo risolto il problema Dei mercati Quanto sto a fare Da trade Quasi 600 Ragazzi Quindi col trade Ma pago tutto Tutte le spese In negativo Tutto Sì Maz Igor Quasi finiti Omo mi sparo Torre de Belem Tutte ste cose Però prima magari faccio Ecco il castello A livello 8 Magari A London Castello Quello sta Ovviamente sta a livello Merda Ok Quasi max Ponti militari E allora Guarda La facciamo In mega anticipo Per finire la missione Così vediamo Che mi fa qua la missione Speriamo che non sia uno spreco Center of Trade A Lima Aumenta D1 Ma a Lima L'avevo già upato No Allora perché non è elencato Non ne ho idea Tra quelli upabili Non ne ho proprio idea Ok Posso fare l'idea Diplo E la facciamo Spy Network Exigibility Quella importante Advisor Cost 15% Vabbè ma ormai sono ricco Fatte 25 Dei upare Ok Con questo stiamo a 40 Dei Nova Divness Che faceva Il simposio Dei Due Mondi 800 splendori A Messico C'è uno scontato sviluppo Un culo 800 splendori Però dai Me da Che me da Liberty Desire Per subject Da development Quindi Liberty Desire Massimo Il 7% De Wichita E In Avento di Power Da quello La Granata E Aggressivo Insieme agli Zuni Qui c'ho Quanto è Il mercato Mazzano 30% C'ho In Iberia Ma A Madrid Non c'è il mercato Non c'è il mercato A Madrid Si Non c'è il mercato A Madrid Vabbè forse Dei cercare una missione Ammazza però Ma aspettavo Ok 61% Allora Mo Devo fa' Una cosa brutta Devo Mincia A sparmar Conscription Center E A parte Conscription Center Tanto Non mi serve Fa' Sta Tec In Anticipo Mo Devo Anna Fa' Una cosa Oribile Devo Fa' Tutto In Full State Mamma mia Moon Full State Tutto Quanto Ragazzi Io Ve saluto Ragazzi Lo devo Fa' Da Solo Questo Questa E' Una Cosa Che Ve Risparmio Alla Prossima Ragazzi